Il sindaco del comune di Agropoli Adamo Coppola ha firmato un'ordinanza per posticipare l'apertura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale al 16 settembre anziché l'11 settembre data quest'ultima prevista da calendario regionale. Il nostro, afferma il primo cittadino, è un paese a vocazione turistica. Siamo ancora in piena stagione estiva e al fine della tutela del benessere e della salute degli alunni considerate le elevate temperature locali ho ritenuto di prorogare di qualche giorno il rientro tra i banchi di scuola che quindi avverrà lunedì 16 settembre.